Il mio giudizio è molto grave, ma non da adesso, perché poi diciamocela tutta. Banco di Napoli era rimasto il nome, Banco di Napoli, ma di Napoli non aveva più niente. Quindi oggi si sancisce definitivamente sul piano formale che di Napoli in quella banca non c'è più niente da tanto tempo. Io credo che è una pagina triste. Questa città forse avrebbe bisogno di avere una banca veramente napoletana. Da questo male potrebbe nascere il bene, visto che quella non è il Banco di Napoli, diciamocelo chiaramente. Era una finzione, forse magari è il momento di riflettere se questa città non possa avere un suo istituto particolare per il credito. Questo potrebbe essere un ragionamento interessante di una città che si sta riscoprendo quotidianamente, come abbiamo visto anche adesso, sulla cultura capitale.